oggi parliamo di geopolitica globale ne parliamo insieme a federico perotti benvenuto federico buongiorno a tutti a tutti e anche a raffaella perinetti ciao raffaella ciao letizia ciao federico e buongiorno a tutti e tutte federico perotti e come sapete ha già condotto per noi diversi webinar abbiamo iniziato un percorso quest'autunno federico è consulente per la cooperazione internazionale collabora con diverso ng e per l'attest editore e autore di pianeta plurale il nostro test di geografia per la scuola secondaria di primo grado e di memoria futura nel dare il benvenuto a chi si sta collegando vi ricordo anche un paio di informazione così ehm attendiamo che tutti si si colleghino sì vedo che c'è già una domanda è previsto un attestato finale sì assolutamente sì come come sempre per i nostri webinar anzi approfitto anche per dirvi che l'attestato vi sarà mandato via mail lo riceverete all'indirizzo mail con il quale vi siete iscritti al webinar e l'incontro questo così come gli altri precedenti se ci seguite già lo sapete viene registrato e sia la registrazione dell'incontro sia le slide che vedrete saranno a vostra disposizione sul sito l'attest sul nostro sito trovate un'area dedicata proprio ai materiali dei webinar dove potete vedere tutte le registrazioni di tutti gli incontri quindi se poi avete piacere di rivedere qualche passaggio o magari volete condividerlo con qualche collega che oggi non ha potuto essere presente lì trovate tutto quanto vedo che molti di voi stanno già usando la chat per per salutarci allora intanto ricambio i saluti e vi invito ad utilizzarla anche nel corso del webinar per farci domande ma anche per condividere eventualmente i vostri commenti vostri pensieri l'esperienza in classe anche perché i temi che affronteremo oggi sono temi particolarmente attuali e di profonda importanza quindi speriamo di trasformare questo incontro un po in un in un dialogo in un dialogo condiviso non sottrago altro tempo alla alla presentazione di oggi e vi auguro un buon ascolto lascio la parola a federico grazie 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 tizia e buongiorno e buon pomeriggio di nuovo a tutte voi e tutti voi e sono contento di condividere ancora una volta con la platea diciamo del dei vostri dei webinar della latte su un po qualche qualche contenuto qualche qualche riflessione rispetto alle tematiche globali e alle tematiche internazionali di cui mi occupo un po da molti anni eh oggi diciamo il tema è particolarmente generale ovviamente e particolarmente anche di attualità nel senso che abbiamo scelto eh due temi che riguardano la situazione globale due macro temi eh che sono quelli della geopolitica e e quelli e quindi della guerra e della pace come primo tema e eh il tema delle migrazioni questi due temi eh che abbiamo scelto eh sono in realtà eh collegati fra loro eh il li tratteremo in modo distinto ma sappiamo benissimo che eh il tema delle migrazioni è collegato a sua volta molto strettamente a quello che succede nel mondo dal punto di vista economico dal punto di vista politico sociale dal punto di vista delle relazioni internazionali eh quindi questi questi due temi che sono due focus in realtà due focus su specifici in particolare su sulla guerra e la pace che oggi sono all'ordine del giorno per la situazione le situazioni le diverse situazioni che stiamo vivendo eh anche vicino all'Europa o dentro l'Europa eh sono strettamente legati eh alla alla all'equilibrio globale il tema della guerra e della pace così come il tema delle migrazioni eh è un tema completo completamente globale che eh tocca tutto il mondo e influenza a sua volta è influenzato e influenza le politiche quello che è importante ehm per me eh visto che ho vissuto particolarmente anche in diversi paesi dell'Africa anche lavorando eh è quello di guardare anche a questi macro temi a questi orgetti eh sovente un po' teorici della del mondo complessivo eh delle tematiche globali che ci sembrano tanto distanti guardarli molto anche dal punto di vista dell'occhio dei popoli di quelli che vivono eh queste situazioni che sono anche vittime o eh costretti nella nei meccanismi della della grande politica e della grande degli grandi equilibri economici e delle degli interessi a eh percorrere la propria vita all'interno di questa storia perché di fatto è la storia che che si che si sta vivendo continuamente e i popoli vivono la storia ma eh dal punto di vista eh guardarlo dal punto di vista di loro e qui nel disegno che viene rappresentato in questo in questa slide si rappresenta molto bene la la varietà anche delle persone che vivono nel mondo e che vivono le problematiche che noi eh magari eh vediamo magari leggiamo e pensiamo che siano lontane dalla dalla nostra visione ehm questo questi sottotemi questi l'indice eh che percorreremo che è quello che vedete ehm sono anche ripresi eh in eh nelle infografiche che sono eh allegate al volume pianeta plurale che vi verrà presentato eh più avanti eh nel 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 webinar e che la Lattes eh ha in in produzione dall'anno scorso ehm e in diffusione eh queste infografiche eh riprendono nove sfide eh del del pianeta e del dell'umanità oggi nove sfide che sono ambientali sociali eh climatiche eh di di disuguaglianza e appunto anche di geopolitica e in particolare due delle delle sfide e delle quindi delle schede delle infografiche sono dedicate a questi due temi tra guerra e pace e eh le migrazioni quindi di fatto eh così percorriamo il tema i due temi che riguardano la geopolitica globale i popoli della terra attraverso questi due occhi eh l'occhio di guardare la guerra e la pace e l'occhio di guardare il tema delle migrazioni però teniamo conto sempre ehm così nel nel retropensiero di vederlo attraverso l'esperienza dei popoli perché l'esperienza delle persone dei popoli sovente sono quelle che sono più dimenticate sono anche quelle come vediamo nelle guerre che sono anche le le vittime eh di decisioni e di non accordi o di disaccordi che sono trattati a livello dei tavoli dei potenti diciamo e quindi questo è un po' un un doppio un doppio sguardo che occorre sempre avere anche leggendo i giornali anche eh leggendo informandoci su su queste tematiche eh sovente siamo tentati tutti eh di semplificare le problematiche di dare per scontato determinati aspetti eh quando in realtà appunto eh le problematiche sono complesse e prima di tutto toccano eh toccano le persone toccano i popoli toccano le persone e quindi e quindi da questo anche per il futuro eh del pianeta che attraverso l'agenda venti trenta che riprenderemo un istante anche nel percorso di stasera di oggi pomeriggio eh dobbiamo tener conto del fatto che un futuro sostenibile deve eh avere una una visione integrata di tutte le problematiche perché non eh non è che si risolve una una grande tematica senza toccare anche le grandi problematiche delle altre infatti infatti l'agenda venti trenta l'agenda duemila trenta è un'agenda eh pur se teorica perché sappiamo che molti degli obiettivi non sono in linea con con i target di raggiungimento però è un'agenda integrata in effetti prende conto prende in conto tutte le eh tutte le dimensioni della vita dell'umanità sul pianeta sul pianeta terra e le cerca di metterle insieme in una agenda eh di obiettivi di tipo integrato poi ovviamente la messa in opera ecco eh diciamo è è da mettere è nella 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 responsabilità dei popoli e vedremo oggi che appunto questa questa queste responsabilità sovente sono eh non sono prese in conto ma eh ci sono altri interessi che muovono in realtà le scelte le scelte che si fanno la prima scheda appunto il primo tema sulla eh sulla guerra e pace comincia domandandosi se eh ha ragione papa francesco quando dice da anni che stiamo vivendo la civiltà dello scontro prima di tutto e la terza guerra mondiale eh a pezzi eh e quindi questa 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 scheda presenta eh la geopolitica globale e le eh le problematiche i diversi aspetti di eh quali sono gli elementi che vanno ad originare in realtà i conflitti non quali quali sono gli elementi eh geopolitici e di atteggiamento complessivo che vanno a generare eh i conflitti il la mia sensazione personale da diversi anni è questa di di aver percepito negli ultimi vent'anni almeno cioè quindi parliamo di diciamo che forse se devo dire una data è la data delle torri gemelle ma dell'attentato alle torri gemelle ma eh non è per dire probabilmente quello è un giorno simbolo ma è un giorno è una data simbolo un anno simbolo però sicuramente eh il il nuovo secolo o il nuovo millennio è cominciato eh è cominciato ed è proseguito con tutta una serie di elementi storici che hanno portato a pensare a eh più incertezza a più insicurezza a da tutti i punti di vista non solo da in sicurezza fisica o politica ma anche economica eh in una in un mondo che si va man mano restringendo nel senso che nonostante la grandezza e la possibilità di viaggiare sia dal punto di vista eh informatico quindi in modo virtuale continuamente in tutto il mondo sia eh la possibilità di viaggiare anche fisicamente che molti popoli eh abbiamo di parlo di noi italiani europei hanno la possibilità di viaggiare però anche questa possibilità qui eh che sembrava sembrava una tendenza forse negli ultimi decenni del secolo scorso che andasse verso la sempre più ampia eh scambio non solo commerciale della globalizzazione economica ma anche scambi di tipo culturale la 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 possibilità appunto di conoscere tutti i popoli del mondo di fare di fare eh maggiore cooperazione anche maggiore maggiore decisioni prese insieme dai da tutti i paesi del mondo ecco tutto questo eh ha avuto in questi anni diversi elementi dalla crisi economica del duemilaotto dagli attentati di tutti i tipi avvenuti negli anni dalle varie le varie guerre oggi poi c'è stata anche la pandemia ecco tutta una serie di eh elementi che eh elementi storici che portano a eh far vedere eh a mostrare un pro una regressione in questo processo di integrazione tra i popoli eh e eh una maggiore eh riscatezza di eh visione quindi ognuno eh ogni paese ogni eh gruppo di persone a volte anche tende a vedere il proprio interesse stretto e non più a vedere eh a vedere la panoramica globale quindi eh ci sono sempre più egoismi chiusure gli stessi processi multilaterali più interessanti che stavano comunque andando avanti che erano quelli delle Nazioni Unite e in parte anche quello dell'Unione Europea sembrano soprattutto quelle delle Nazioni Unite eh un processo molto eh in difficoltà nel generare quei quei obiettivi che si era dato e il processo anche dell'Unione Europea anche ha avuto le sue eh ha avuto e sta avendo le sue difficoltà nel progredire verso una maggiore unione una maggiore collaborazione una maggior benessere insomma per tutti e quindi questa sensazione di disgregazione lacerazione frammentazione poi ci si è messa anche la pandemia eh si vede eh e si vede e voi insegnanti lo vedete insegnanti docenti di vario di varie scuole lo vedete ancora di più eh con i ragazzi e le ragazze come eh vivono anche essi rispetto forse io penso a quando eh facevo io le scuole o un po' più avanti insomma eh facevo l'università eh le idee più chiare le idee erano forse più chiare c'era un futuro più o meno più più in qualche modo più definito e c'erano meno elementi di incertezza pur essendo magari essendoci magari meno eh possibilità di conoscenza di integrazione dal punto di vista dell'informazione della formazione eccetera perché sicuramente internet con tutto quello che ha portato ha ehm ha migliorato da questo punto di vista però la sensazione che vivono almeno anche i miei figli eh confrontandosi la sensazione di un po' di incertezza di non di mancanza di prospettive o comunque di difficoltà nell'individuare dei percorsi anche dei riferimenti no valoriali politici di un senso maggiore ecco si si verifica questa situazione eh ed è ed è un un elemento storico che da da considerare di questo di questi decenni eh nella nella situazione geopolitica ci sono alcuni elementi che sono importanti da considerare nel nella situazione attuale della della geopolitica quindi del dell'equilibrio dei poteri eh economici politici a livello a livello globale ehm perché ci sono stati dei cambiamenti ci sono dei cambiamenti in corso e eh e e sono e sono importanti e sono importanti e sono parte di questa di questo processo un po' di eh frammentazione di di unità e e frammentazione che si mischiano e che non si capisce bene appunto come evolverà il tutto eh dal punto di vista delle potenze delle del dominio globale sicuramente ancora eh gli Stati Uniti d'America hanno hanno la caratteristica della superpotenza globale forse più di altri più di altri però eh sappiamo come eh intanto in termini economici la Cina sta ormai raggiungendo gli Stati Uniti eh come come potenza economica e dal punto di vista politico comunque sia la Cina che la l'India eh come grandi grandi nazioni con popolazioni superiori al miliardo e la Russia per la sua storia eh per la sua storia la sua ampiezza anche dal punto di vista territoriale eh e la sua la sua atteggiamento insomma complessivo tutti e tre insieme agli Stati Uniti hanno ambizioni di dominio politico a livello mondiale o continentale diciamo forse l'India è quella che agisce più a livello a livello a livello regionale nella nel in Asia però eh teniamo conto che l'India è già eh attualmente penso la nazione più popolata del mondo quindi eh è comunque una superpotenza dal punto di vista anche solo demografico lo diventerà piano piano anche dal punto di vista economico eh adesso è ancora molto sotto la Cina dal punto di vista economico ma eh sicuramente ha un ha un percorso di di sviluppo economico molto importante ecco quindi questo dominio politico ed economico eh che eh era forse eh prima c'era la guerra fredda e quindi era Stati Uniti Unione Sovietica anche se il dominio economico era eh all'Occidente quindi Stati Uniti più Giappone più eh l'Europa eccetera dal punto di vista economico oggi sicuramente gli equilibri economici sono sono molto cambiati e e quindi anche solo il fatto che la la l'Unione Europea costituisce meno del 10% insomma eh di della popolazione mondiale eccetera quindi una volta il centro storico geopolitico era l'Europa no eh tanti anni fa prima di eh prima delle guerre mondiali eccetera ecco ehm quindi questo dal punto di vista degli elementi di dominio eh complessivo di anche di atteggiamento di dominio ci sono poi alcuni singoli paesi visto che adesso qui parlo di Francia Turchia ma forse anche la Gran Bretagna eh che per parlare delle paesi europei che vogliono contare nel mondo dal punto di vista geopolitico non solo economico ecco quindi eh quindi che vogliono avere un ruolo altri invece tutto il resto dell'Unione Europea eh il Canada altri paesi eh come del sud-est dell'Asia orientale come la Corriere del Sud, Taiwan eccetera sono paesi che guardano diciamo dal punto di vista geopolitico più agli interessi economici della propria della proprio sviluppo che non al dominio no che non all'idea del dominio del dominio comunque del controllo del mondo e poi ci sono tutto il mondo emergente eh America Latina complessivamente tanti paesi arabi che hanno i loro eh le loro ricchezze in termini di risorse naturali di di energia eccetera eh e e e poi tutta l'Africa subsahariana con qualche altro paese sparso sparso per il mondo che eh oggi non si usa più il termine paesi in via di sviluppo paesi comunque paesi a meno con con meno reddito pro capite quindi con meno economia e anche meno eh che contano meno eh dal punto di vista complessivo a livello globale quindi una suddivisione grosso modo generale di quella che è la eh l'influenza eh e il ruolo anche a livello globale dei vari dei vari paesi sicuramente siamo molto lontani dal dal governo mondiale che si era ipotizzato anche da parte di alcuni eh teorici tanti anni fa dicendo si arriverà un governo mondiale eccetera anzi un mondo multipolare con molte a molti molti interessi e molte centri di potere che eh che intendono eh intendono i propri le proprie visioni i propri interessi dal punto di vista anche molto plastico molto anche dal punto di vista eh più eh molto più evidente di come per esempio il confronto che oggi eh si dice il confronto globale è ormai tra tra Stati Uniti e Cina soprattutto dal punto di vista economico ma in qualche modo anche dal punto di vista eh geopolitico eh il il guardate la differenza eh tra eh eh i paesi che commerciavano di più eh con gli Stati Uniti che commerciano di più con gli Stati Uniti o con la Cina e eh sono passati dal duemila al duemilaventi e molti paesi sono diventati rossi quindi sono diventati paesi che eh commerciano maggiormente con la Cina compresa anche tutta l'Unione Europea se vedete bene tranne sì tutta l'Unione Europea sostanzialmente che eh commerciava nel duemila di più in termini di valore con gli Stati Uniti oggi tutti molti paesi commerciano di più eh con la Cina e in particolare in particolare possiamo vedere anche l'Africa no? Che ma anche l'America Latina no? È significativo che grandi paesi come Brasile, Argentina eccetera siano tutti passati ad avere un volume commerciale di scambio maggiore con la Cina che eh che con gli Stati Uniti e questo è un primo è un primo elemento diciamo di tipo geopolitico dal punto di vista della della del valore economico. Un altro elemento eh importante è l'evoluzione degli Stati Fragili, parliamo di guerra e pace quindi di situazioni eh conflittuali eh che sono generate anche dagli elementi economici ma eh ma dobbiamo pensare anche a tutta a tutta la questione politica di ogni Stato e di ogni eh ogni eh ogni eh l'evoluzione politica della politica in ogni Stato perché questa influenza è influenza ed è influenzata dall'esterno ovviamente dalle condizioni economiche, dai conflitti, dalle degli interessi eccetera. Eh questa è una mappa un po' vecchia però non ho trovato una mappa più recente del duemilaquindici però eh voi vedete c'è una classificazione, è una la rivista Limes che fa delle cartine molto interessanti e questa fa vedere eh gli Stati Fragili, cioè la fragilità degli Stati, la fragilità dal punto di vista del governo, dell'equilibrio, della stabilità eh anche economica eccetera. Vedete che ci sono dal blu eh al verde che diciamo sono quelli che sono giudicati più stabili e eh più avanti eh nei colori che vanno dal giallo all'arancione al rosso, al rosso scuro e al nero addirittura allo scuro. Sono quelli che sono considerati in condizioni allarmanti o in fallimento. Eh vedete quanti paesi soprattutto in Africa ma non solo, anche tutta la regione del Medio Oriente, poi l'Ucraina ovviamente che era già nel duemilaquindici era già in conflitto, scusate, era già in conflitto, la Birmania, tanti stati che ehm tanta parte del mondo è un po' quello che vi dicevo prima sulla instabilità no? Sulla sulla sul fatto anche della ristrettezza, del non poter viaggiare, della diminuzione della possibilità di conoscersi perché eh tanti stati sono diventati insicuri. Però è una mappa, è una mappa che ci fa vedere che molta parte del mondo ha eh almeno dal punto di vista della dell'indice di questi stati fragili, ecco considerati fragili, ecco molta parte del mondo ha dei problemi e anche grandi e questo si riflette su tutto, sulla popolazione naturalmente, sulle condizioni, su sulla conflittualità e così via. Ecco questa mappa probabilmente oggi sarebbe anche più ehm ehm anche con più problematicità ancora no? Probabilmente avrebbe ancora qualche qualche stato che va verso il 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 rosso e in più. Noi si parlava qualche anno fa della Somalia, si diceva ah la Somalia è lo stato fallito, eccetera. ecco sì la Somalia è in nero ma ce ne sono diversi altri in ehm in Africa e eh io metterei Haiti, ecco forse Haiti è di colore non si vede perché è piccolissimo però Haiti in eh nei Caraibi è un paese fallito sostanzialmente in cui in cui la popolazione sta malissimo e anche per situazioni non solo interne ma anche internazionali è un paese dimenticato, un paese è un paese che vive il paese più povero di tutta tutte le Americhe e vive una situazione di criminalità e di e di mal governo, di non controllo della situazione come la come è la Somalia, come è stata la Somalia in tutti questi anni. Solo per fare due esempi lontani anche fisicamente no? Però ne abbiamo più vicini perché la Siria piuttosto che situazioni situazioni come come quella del Medio Oriente del conflitto israele o palestinese non sono situazioni di stabilità, sono delle situazioni di grande instabilità e di di fragilità eh geopolitica e anche delle popolazioni no? E questo si collega, questa situazione degli stati fragili si collega anche al tema della democrazia perché questo è un po' un vangelo del nostro un vangelo del nostro eh del nostro mondo occidentale quello di eh l'esportazione della democrazia c'era qualche anno fa si diceva un po' il criterio dell'Occidente era quello di cercare di ehm di esportare in qualche modo i modelli democratici all'Occidentale che noi riteniamo ma probabilmente è anche vero che che siano che siano che siano siano un modello che comunque garantisce la multi la partecipazione garantisce un certo livello di partecipazione un certo livello di eh di eh di partecipazione alla vita politica di di scelte anche di così no? La di libertà e cosa no? Probabilmente quindi questo lo dobbiamo considerare sempre un valore no? Però confrontandosi con il resto del mondo si vede che oggi eh un modello che va di moda invece di più è l'autocrazia no? E il fatto di eh avere l'uomo forte eh che che governa e che che porta avanti e che la democrazia un po' viene messa un po' da parte anche se ufficialmente magari c'è eh in Africa in particolare è stata una storia di questo tipo dove tutti tutti i paesi formalmente quasi tutti i paesi hanno adottato il sistema democratico perché dovuto alle potenze coloniali che erano eh Gran Bretagna e Francia in gran parte Portogallo eccetera tutti hanno cercato di trasformare cioè di farli trasformare in democrazie ma la realtà è che ehm il livello di applicazione diciamo di questo modello a seconda dei delle situazioni anche economiche di di fragilità eccetera varia tantissimo da un paese dall'altro per cui io conosco un po' meglio l'Africa e ci sono alcune democrazie che eh funzionano da tanti anni ma non sono molte e e alcune invece che invece zoppicano o che si trasformano in altro in altri tipi di di regimi si ritrasformano in altri tipi di regimi e e così eh ci sono situazioni eh di questo tipo che si si verificano quindi il livello di democrazia ideale eh verde eh verde scuro eh lo vediamo realizzato un po' in Europa nel nord Europa eccetera poi parzialmente diciamo in Europa e negli Stati Uniti eccetera poi in America Latina anche in parte e poi dopo tanti paesi dove eh dove questo modello non è di moda diciamo e non che non so pensiamo alla Cina la Cina sta vivendo la sua storia ma non è che pensa di trasformare il proprio eh il proprio modello in una democrazia all'occidentale ecco quindi bisogna anche tener conto che poi dovremmo dobbiamo sempre continuare ad avere rapporti con questo tipo di eh di nazioni e anche se le nazioni si trasformano in qualcos'altro rispetto a quelle che pensavamo al punto di vista del modello comunque i rapporti dobbiamo continuare ad averli quindi oggi le difficoltà forse anche del del delle mediazioni politiche sui conflitti eccetera è anche dovuta a questa differenza no di concezione proprio del del paese forse anche dei popoli stessi o del loro sistema politico e così e in Africa in particolare ci sono stati recentemente solo perché è una zona che è ha avuto eh recentemente molti fatti di questo tipo eh tutta la fascia del Sahel quindi quella che vedete nella cartina cioè la fascia sotto il deserto del Sahara diciamo tutti i paesi eh del o dell'Africa occidentale ma anche il Sudan e il Chad eccetera verso la parte centrale orientale tra il duemila diciannove ventuno e poi il ventitré e ventidue ventitré hanno avuto tutti eh delle esperienze in cui certe certe piccole esperienze democratiche sono state trasformate di nuovo in ehm in governi militari no colpi di stato spesso incruenti alcuni invece più cruenti come in Sudan eccetera ma eh sono un po' per incapacità un po' per considerazioni interne un po' esterne probabilmente sono stati ripresi nel controllo del controllo dai dai militari di tutti questi paesi e non si vede tanto la uscita no nel senso che poi quando i i governi militari riprendono il potere se lo tengono per un bel po' parliamo di anni e anni cioè non è che la transizione poi alla democrazia ritorna così facilmente il questo ultimo è quello del Niger di cui vedete le foto e hanno coincido coinciso anche in un'area nella quale da dal 2011 da quando eh c'è stato approvesciamento del regime di Gheddafi in Libia da parte dell'occidente in particolare da da parte della Francia dalla Gran Bretagna eccetera e eh si è liberata una quantità di armi impressionante che era controllata in qualche modo dal dal dalla Libia da quel momento lì quindi sono passati ormai tredici anni eh ecco quell'area lì è diventata estremamente instabile ci sono molti molti gruppi eh terroristici di natura islamica o anche solo di natura di criminalità eccetera che scorrazzano in tutta quell'area che è immensa che è poco controllata dai governi perché sono sono savane deserti eccetera e eh oltretutto poi c'è l'influenza c'è l'influenza c'è anche l'influenza di di potenze esterne in particolare della Russia che eh con la Wagner eccetera si si è infilata a livello di questi paesi ma questo è uno degli elementi non è l'elemento principale l'elemento principale è che la democrazia si sono ritrasformate in in particolare in Niger il presidente che è stato deposto era un presidente onorevole che faceva le sue cose che aveva eh impostato una politica coerente eccetera ecco è stato rovesciato l'anno scorso e non se ne parla di di ritornare alla da questo signore che vedete lì nella trasmissione nella trasmissione televisiva che annunciava ecco questi paesi diventano di nuovo appunto in con un'incertezza enorme sul loro futuro dal punto di vista anche delle relazioni con gli altri paesi del della possibilità di spostarsi delle dello sviluppo delle scuole eccetera eccetera con in più il fatto che non riescono a controllare questo terrorismo che agisce nel nord in generale di questi paesi eh solo domenica scorsa ci sono stati centocinquanta morti in Burkina Faso eh in due villaggi diversi eh dove sono andati a ammazzare chiunque che ha che usciva dalla messa in uno e da una moschea in altro quindi eh hanno sterminato la popolazione che era appena uscita da dal nord del Burkina Faso dalla messa o dalla dalla moschea perché poi loro non fanno distinzione la moschea sono sempre degli infedeli perché non sono il loro non sono il loro credo eccetera ma in realtà non è la messa o la moschea è il terrorismo per poter instaurare sostanzialmente un controllo su quelle aree e non e dimostrare che il governo centrale compreso l'aggiunta militare non riesce a eh non riesce a controllare per nulla la situazione però è sicuramente un imbarbarimento enorme delle situazioni io ho vissuto due anni in Mali eh nel novantasette novantasei novantacinque e in in Mali si viaggiava regolarmente si andava a vedere tutte le località turistiche bellissime che ci sono oggi in questi paesi in Mali in Burkina Faso in Niger eccetera i bianchi diciamo chiamiamo così non possono uscire dalle capitali perché eh rischiano tantissimo eh quindi ecco una un esempio dell'aumento dell'insicurezza a livello a livello globale in questo caso in un'area in un'area importante l'Africa è comunque un continente in crescita e in crescita dal punto di vista demografico diventerà due miliardi di abitanti nel tempo di qualche decina di anni entro il duemila cinquanta e e e in gran parte anche in crescita economica no eh e quindi sicuramente eh dobbiamo tener conto dell'Africa anche negli equilibri globali almeno per il futuro non non per il presente ma per il futuro quindi ecco complessivamente abbiamo questo eh potere questo denaro eh che influenzano le scelte geopolitiche e ci sono sfere di influenza e grandi ricchezze in gioco ma le guerre però come stiamo vedendo appunto per far giocare queste sfere di influenza eh sembra che siano eh siano eh uno strumento che pensavamo magari che fosse relegato a qualche paese a qualche paese povero o qualche paese dell'Africa appunto dove eh sì si fa la guerra è lontana eccetera invece adesso le guerre vengono riutilizzate eh per eh per far prevalere eh per far prevalere gli interessi eh gli strumenti per prevalere sia come modello culturale eventualmente politico sia in termini economici forse quella economica è la leva principale e sia per avere sfere di influenza per eh mettere a confronto le sfere di influenza di una potenza o l'altra nella nella sfera globale in tutto questo in tutto questo c'è eh ecco eh c'è stato sicuramente un elemento e c'è ancora in qualche modo un elemento che è quello eh del terrorismo interna del terrorismo internazionale di cui parlavamo un po' prima eh dagli attentati di New York e Washington e a tutti gli attentati che ci sono stati in Europa e a tanti attentati eh fondamentalisti eh che ci sono stati in Siria in tutti questi anni di in tanti altri paesi anche in Pakistan e così via quindi sicuramente il terrorismo è stato usato ed è usato dalle potenze da chi finanzia sostiene e alimenta questi questi gruppi terroristici come una un'arma di guerra sostanzialmente come come uno strumento diverso per 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 fare la guerra e questo è un elemento che dobbiamo tenere conto tanto che abbiamo fatto poi delle guerre per eh contrastare i gruppi terroristici no? Eh le guerre in Iraq eccetera abbiamo fatto delle guerre più giuste o sbagliate che fossero eh però per contrastare questi questi gruppi terroristici eh ecco quindi il terrorismo è un modo di fare la guerra dall'altra parte c'è lo strumento della guerra e di tutti questi che sono le armi e le armi sono un elemento economico sono un elemento economico di di ricchezza e di 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 interessi enormi eh questa cifra a me aveva impressionato quando abbiamo fatto l'infografica l'anno scorso preparando l'infografica che la spesa mondiale per per armamenti è cinque miliardi di euro al giorno la spesa mondiale a tutto il livello del mondo sono cifre che eh potrebbero essere pochi giorni di queste cifre eh di di questi cinque miliardi al giorno potrebbero risolvere molti dei problemi sanitari di fame sociali eccetera con interventi corretti eccetera però vengono investiti in armi e ci sono i parliamo del 2 per cento solo l'Italia che spende il 2 per cento del prodotto interno ardo per fabbricare armi per costruire mezzi di arma e dall'altra parte spende solo lo 0,2 per cento per la cooperazione internazionale per gli aiuti cooperazione internazionale cioè un decimo dieci volte meno si domanda poi perché appunto non si non si riescono a eh risolvere i problemi e anzi se ne se ne creano altri no? E di armi ce ne sono tantissime quindi il commercio delle armi eh è eh uno delle degli elementi che fanno la floridità di di tante economie eh questi diagrammi fanno vedere i maggiori eh eh esportatori e importatori di armi eh a livello a livello globale eh gli acquirenti da una parte sinistra e gli esportatori dall'altra il valore del commercio internazionale di armi che cresce decresce ma sostanzialmente continua a riaumentare nell'ultimo decennio e poi ci sono vabbè le tipologie di armi. Chiaro che quella delle armi del fatto che non si facciano armi è un po' un'utopia però è anche vero che a volte sembra proprio che il fatto di fare le guerre sia anche un modo per utilizzare le armi e quindi per fare per fare per fare crescere certi livelli economici e certe strutture no quindi eh quindi questa anche questa frase di Francesco di pochi mesi fa ehm l'anno scorso è comunque un un pensiero che viene spesso anche a chi eh si preoccupa di questo di questo tipo di eh di di tematica perché le 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 armi sembrano vabbè sono uno strumento delle guerre le guerre ci sono però in realtà più armi ci sono e più ci sono anche guerre no? Sono un affare tante persone eh hanno interesse e eh guadagnano su questo e e quindi questi sono i i i dati no? Del 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 commercio delle armi per non parlare della esistenza ancora degli arsenali nucleari che vengono agitati eh sovente come eh come un eh una minaccia ma eh appunto se ci sono la minaccia eh la minaccia può farsi reale no? Quindi quindi e questo è un tema un tema importante. Eh l'ultima parte della scheda farla parla un po' dell'altra dell'altro lato no? Del dell'obiettivo della pace ma io volevo sottolineare soprattutto alcuni aspetti da una parte gli attori della pace dalla parte delle Nazioni Unite e dall'altra un riferimento all'agenda 20-30 rispetto a questo. Eh uno il tema delle Nazioni Unite il eh le Nazioni Unite è un'organizzazione che è nata dopo la seconda guerra mondiale siamo quasi tutti membri gli stati del mondo sono quasi tutti membri e nasce per evitare future guerre promuovere i diritti umani lo sviluppo eccetera ha sempre agito agito agiti agisce eh in tante crisi globali per mandare contingenti di di interposizione per come forze di 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 pacificazione o comunque di di interposizione tra in certi casi no? Dove dove vengono vengono votati anche questi questi contingenti nelle situazioni di conflitto dopodiché eh ci sono una serie di eh elementi che fanno oggi dell'ONU un un organismo un po' zoppo dal punto di vista della sua capacità di azione eh perché perché la composizione è molto eterogenea abbiamo visto i paesi che la compongono sono anche tanto non democratici ma questo non per fare un giudizio di merito ma perché paesi non democratici hanno un atteggiamento diverso rispetto alle questioni probabilmente quindi molti paesi non democratici hanno questo tipo di atteggiamenti e il il fatto di eh di eh di di confrontarsi di confrontarsi eh con gli altri paesi a livello dell'ONU eh ci ci mostra il fatto che molto spesso non si riesce ad arrivare una a delle decisioni comuni il famoso governo mondiale non c'è e quindi non riesce a fermare i conflitti no? Eh perché vengono messi anche i veti e gli interessi e gli interessi prevalgono in particolare il l'ONU l'ONU nasce alla fine della seconda guerra mondiale ci sono cinque eh nazioni che hanno il diritto di veto per bloccare eh qualsiasi decisione eh eh al Consiglio di sicurezza quindi eh molte decisioni non vengono basta che uno degli dei cinque vincitori della della seconda guerra mondiale decide che non va bene e quindi eh quindi la decisione la decisione non passa eh di conseguenza questo blocca ovviamente perché tra le tra le cinque c'è anche la Russia c'è ci sono c'è gli Stati Uniti e quindi eh la Francia la Gran Bretagna quindi non si può ehm non si può eh andare eh avanti in questo senso eh cioè c'è un funzionamento molto difficile di questo organismo eh d'altra parte abbiamo l'impegno popolare per la pace e quindi il fatto che eh ci sono eh popolazioni e eh leader che hanno eh portato eh le istanze della pace e continuano a portarle nella storia ci sono stati Gandhi, Martin Luther King eccetera personaggi importanti Nelson Mandela e anche delle scelte importanti come le obiezioni di coscienza al servizio militare, le obiezioni di coscienza alle spese eh alle spese militari che è stata portata avanti per anni anche in Italia. Ecco sono tutte scelte eh simboliche anche che hanno chiesto negli anni, nei decenni alla politica delle delle azioni concrete. Occorre che eh queste siano eh siano seguite in qualche modo e che la voce profetica di persone e anche di leader faccia andare avanti queste istanze per poter per poter cambiare la logica eh la logica della guerra che eh domina eh le relazioni tra tra gli stati in qualche modo cioè che sembra una logica che torna di moda. In particolare anche l'agenda 2030 ehm ha eh due obiettivi che sono il 16 e il 17 che sono molto importanti in relazione al raggiungimento degli obiettivi di tutta l'agenda ma anche in relazione al tema della della pace e delle società pacifiche perché il il numero 16 parla di eh promuovere società pacifiche inclusiva orientate lo sviluppo no? L'accesso alla giustizia eh istituzioni efficaci responsabili eccetera e quindi si chiama pace e giustizia istituzioni forti anche all'interno dei dei singoli paesi e al livello delle nazioni. Quindi è esplicitamente un obiettivo che riguarda le relazioni dentro i paesi e fra i paesi perché le istituzioni promuovano la pace interna e esterna. E poi c'è l'obiettivo 17 che è l'obiettivo che ci serve eh cioè serve all'agenda a rafforzare il modo con cui vengono attuati eh gli obiettivi e rilanciare il partenato globale per lo sviluppo sostenibile. Quindi questo sarebbe quello che eh quell'obiettivo che eh sta sopra un po' e integra tutti gli altri obiettivi per poterli raggiungere perché se c'è un'intesa più c'è un'intesa a livello globale tra i tra le varie aree, i vari governi, i diversi i diversi stati verso la raggiungimento dello sviluppo sostenibile è meglio si raggiungerà questo eh è meglio si raggiungeranno tutti gli obiettivi. Quindi il partenariato è fondamentale. Se invece la fiducia nelle relazioni fra i paesi viene minata tra da priorità diverse interessi e genomia economica eh scelte appunto conflittuali eccetera non è sicuramente il tempo nella quale si farà si farà eh la pace e si farà anche l'agenda l'agenda venti trenta perché lo sviluppo sostenibile di tutti questi obiettivi eh dall'uno al quindici diciamo sull'ambiente, sul clima, sulla biodiversità, sulla lotta alle disuguaglianze alla fame e la povertà, sulla sostenibilità eccetera, dei consumi eccetera e eh è eh legata eh viene raggiunta solo in società che sono pacifiche, in società che si riescono a mettere d'accordo sugli obiettivi per raggiungerli insieme e così via. Se c'è una disgregazione sicuramente ci sarà anche un'intesa che non si verifica come alle conferenze annuali per l'ambiente, per il clima che spesso fanno molti documenti ma in realtà le scelte poi non seguono e quindi questo è la chiusura di questo di questa prima parte sulla su guerra e pace ma per chiudere dicendo anche in relazione all'agenda venti trenta dicendo abbiamo bisogno eh abbiamo bisogno della pace e quindi abbiamo bisogno di invertire la tendenza di tutto quello che vi ho detto prima per per andare a raggiungere anche gli obiettivi di vita dell'agenda e una pausa per sì grazie grazie Federico e appunto in apertura di questo interessantissimo eh discorso avevi già anticipato come eh queste tematiche insieme ad altre appunto sono nove sfide del del mondo di oggi eh le abbiamo affrontate nel nel fascicolo di infografiche che eh collegato al nostro corso di geografia per la scuola secondaria di primo grado pianeta plurale di cui appunto Federico Perotti eh è tra gli autori. Eh queste infografiche affrontano eh in modo ecco semplice ma non semplicistico eh come vista che ti ha presi conto dalla dal discorso che ha di di oggi di Federico eh queste queste grandi sfide del del mondo di oggi tra cui una delle principali appunto eh le guerre eh che ancora sono così diffuse sempre di più e la ricerca della pace eh per ciascuna di queste infografiche sul retro sono sono infografiche che si sviluppano su tre tre pagine su qua ne vedete una miniatura ma sono molto grandi eh sull'oggetto delle infografiche per ciascun argomento è proposto un percorso interdisciplinare eh che possa essere utile eh intanto a a guardare un tema da più punti di vista da con occhi con occhi diversi con sguardi diversi a seconda della disciplina ma ovviamente anche può essere uno spunto per la preparazione dell'esame del colloquio dell'esame di stato quindi eh per quanto riguarda il mondo tra guerra e pace di cui abbiamo parlato finora eh vi sarei già resi conto sentendo parlare Federico Perotti di quante possano essere eh le relazioni collegamenti eh tra le vaghe discipline perché insomma purtroppo la guerra in particolare ma anche la ricerca della pace per fortuna eh insomma è un argomento trattato un po' in tutti gli ambiti quindi naturalmente per quanto riguarda la geografia eh è facile fin troppo facile fare riferimento alle alle guerre ancora in corso da quelle più note eh come la guerra tra Russia e Ucraina o la guerra in Medio Oriente a quelle meno conosciute dell'Africa susariana a cui abbiamo fatto riferimento anche oggi così come per quanto riguarda la storia eh il il divenire storico è purtroppo ricco di guerra in particolare la storia del Novecento mh è stata dominata dalle due guerre mondiali e dai eh dalle loro tragiche conseguenze come tra tutte ma non solo naturalmente eh la Shoah eh per quanto riguarda italiano i libri che si possono leggere in classe o che si possono consigliare ai ragazzi eh sono moltissimi a partire anche dai grandi nomi della letteratura italiana che hanno scritto testi eh sulla resistenza sulla seconda guerra mondiale pensiamo solo Calvino Finoglio ma sono consigliati anche autori eh più recenti attuali e più vicini magari anche alla all'esperienza e alla modalità di lettura dei giovani eh infine con tecnologia il collegamento è purtroppo eh quello che già citava prima Federico alla alla costruzione delle armi al fatto che tanta della nostra evoluzione tecnologica oltre che eh dei soldi degli stati vengono messi appunto vengono sfruttati eh all'interno di questo mercato per costruire armi e vendere armi sempre più sofisticate mentre invece appunto anche la tecnologia dovrebbe avere un ruolo fondamentale nella nella ricerca della pace nella eh costruzione di economie più equa e più giuste e nelle relazioni eh più giuste più equa tra stati come appunto eh ci ricordano eh due obiettivi sedici e diciassette dell'agenda venti trenta eh sul fronte del costruire la pace per fortuna ci sono altrettanti collegamenti che si possono fare quindi per esempio l'insegnante d'inglese potrebbe eh far ascoltare il famoso discorso di Martin Luther King alla classe in lingua originale eh ma anche per quanto riguarda l'educazione musicale eh abbiamo tanti cantautori eh sia americani come Bob Dylan sia anche italiani basta solo pensare a Fabrizio D'Andrea ma anche anche cantanti eh più recenti e insomma è più vicini a magari all'esperienza eh degli studenti e delle studentesse della scuola eh secondaria di primo grado affrontano eh con forza questo tema e per quanto riguarda anche l'arte moltissimi artisti nelle loro opere hanno denunciato le guerre basti pensare a Guernica di Picasso ma anche ai alla street art di Bansky che è sicuramente nota e apprezzata eh dagli studenti più giovani. Infine i collegamenti con l'educazione civica sono molteplici perché appunto eh parlare di che cos'è l'ONU come funziona e quali sono i suoi eh meriti e i suoi difetti è una è un argomento di civica così come propone la lettura eh della dichiarazione universale dei diritti umani che appunto eh adesso è stata ripresa per l'appunto dall'agenda 20-30 offre sicuramente molteplici spunti di di riflessione eh che possono essere sviluppati appunto in in all'interno di un colloquio eh per l'esame di Stato o per qualsiasi anche eh interrogazione o ricerca da fare in classe. Io cedo nuovamente la parola a Federico per la seconda parte di questo webinar. Ok grazie eh grazie Raffaella eh sul tema delle migrazioni eh andremo un po' più rapidamente ma è quello che mi interessa su questo tema è eh focalizzare alcuni aspetti eh perché ne leggiamo, ne sentiamo eh parlare, ne leggiamo di articoli di tutti i tipi eh dalla politica alla sociologia all'economia eccetera ma è importante considerare alcuni aspetti a livello globale del del fenomeno migratorio no? Perché questi aspetti volevo volevo sottolinearli un po' un po' le tipologie delle migrazioni adesso le vedremo rapidamente un po' questa presunta classificazione dei migranti che eh anche siamo abituati un po' a sentire eh a sentire eh definire anche dalle leggi, dalle politiche eccetera che però stanno molto strette a mio parere a quello che è un po' il fenomeno complessivo e e poi eh il tema delle regole che eh delle regole e delle leggi che non riusciamo tanto a cambiare in Europa e quindi eh provocano solo eh altri problemi e altre disumanità in qualche modo. Ehm introducendo il tema della migrazione le persone si sono sempre spostate eh nella storia per cercare eh lavoro, terra, fortuna eccetera, pure gli italiani sono stati sono stati un popolo di migranti, gli Stati Uniti sono nati dalle migrazioni eh e anche se hanno poi invaso diciamo la terra eh sono migranti che hanno invaso la terra degli originari americani però diciamo che la terra era molto grande poi ci sono stati i conflitti e l'oppressione ma comunque le migrazioni hanno influenzato l'umanità da sempre no? Se vogliamo anche la stessa America è stata popolata da prima ancora di Colombo eccetera prima è stata popolata dagli asiatici che hanno attraversato lo lo stretto di Bering e sono andati a popolare fino all'America Latina per cui i peruviani sono discendenti dei mongoli no? In quanti come origine no? Quindi e questo è un elemento storico. La possibilità di migrare è un diritto e quindi anche il fatto che si mettano tante leggi che impediscono questo anche a forza non è eh non è secondo me nell'umano eh anche perché le disuguaglianze e le e continuano a esistere quindi e questo è un fenomeno che ci sarà continuamente no? E continuerà a esserci nonostante tutte le leggi. I flussi migratori eh appunto sono stati nella storia questa scheda comincia con questa analizza un po' anche questo questi flussi attuali ma eh i flussi migratori appunto ci sono stati eh da sempre no? Eh gli europei vengono da migranti dell'Asia centrale eh eh i greci, i romani, i fenici nella storia hanno occupato il Mediterraneo e si sono spostati. I barbari hanno mescolato l'etnia in Europa. Ecco eh tanti popoli sono stati migranti come gli italiani. Quindi eh oggi vedete nella mappa di questa eh i principali flussi eh di questi ultimi tempi diciamo eh verso l'Europa, verso verso gli Stati Uniti ma anche altre migrazioni interne all'Asia o o o o dal dall'Africa verso il Medio Oriente e così via. Verso i paesi arabi ci sono tante frecce che rappresentano flussi eh flussi eh di diversi periodi storici diciamo. Eh eh io volevo sottolineare perché ci sono anche eh altri tipi di migrazioni. Per esempio ci sono i i i migranti interni o gli sfollati che questi sono sovente dimenticati ma in realtà sono da contare tra quelli che devono lasciare il proprio la propria casa, il proprio territorio, la propria regione, eccetera. Vedete questa statistica che fa vedere che gli sfollati, quelli che si chiamano internally displaced people, cioè eh eh appunto sfollati interni eh nel mondo sono ormai settanta milioni eh settanta milioni e sono aumentati tantissimo, sono aumentati per tanti motivi e sono aumentati per motivi eh conflitti conflittuali eh questi sono eh questa è una statistica del 2022 eh di un organismo internazionale che non leggo, non mi ricordo, ma vedete quanti eh milioni di persone sfollati interni di tanti paesi eh che vivono anche anche questi sono campi profughi, sono eh mantenuti da istituzioni internazionali piuttosto che abbandonati a loro stessi eccetera. Eh sono 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 spostamenti che avvengono a a livello di eh di eh milioni di persone, no? A seguito di eh situazioni eh diverse. Sono tanti paesi che hanno eh che hanno questo tipo di 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 persone spostate in modo permanente anche per anni internamente. Il l'altro tipo di sfollati interni si ha per i fenomeni climatici, per i fenomeni naturali che possono essere anche terremoti ma eh e altri fenomeni climatico. Eh il e questi fenomeni potenzialmente potrebbero aumentare nei prossimi nei prossimi anni. Parliamo di una decina di milioni di persone nel mondo nel duemilaventidue eh che hanno dovuto lasciare proprio a proprie case per motivi eh naturali diciamo chiamiamo così che poi si spera che possano ritornare dopo dopo gli eventi ma eh ecco sono eh comunque aumentate dal duemilaventuno in questo caso in un anno del quarantacinque per cento. Eh in in Africa in particolare eh molti dei migranti che sono classificati migranti in Africa tre quarti dei migranti circa sono migranti all'interno dell'Africa cioè sono persone che lasciano un paese per un altro eh a causa anche di conflitti eh grandi conflitti come la guerra le guerre nella zona dei grandi laghi con Goruan da Burundi dal novantatré in poi ma anche oggi c'è ancora eh ci sono ancora persone che vivono che vivono in campi profughi in quell'area così come ce ne sono tante nel Centrafrica piuttosto che eh migranti che da appunto dal Burkina del Mali rientrano verso le coste d'Avorio e dalla Somalia verso i paesi esterni. Pensate che c'è un campo solo questo c'era stato anche un servizio alla RAI qualche qualche mese fa eh c'è il campo di Dabab che è al confine del Kenya con la Somalia è una città è la mi sembra la terza città del Kenya in termini di popolazione ed è un campo profughi di vent'anni di eh di vent'anni di popolazione somala che eh è scappata dalla Somalia e non è mai più rientrata perché non ha i documenti ormai in regola per rientrare in Somalia o perché non vuole e e sono ormai è ormai una città che ha i suoi i suoi meccanismi eccetera però è relegata in un angolo del Kenya senza avere possibilità di sviluppo economico eccetera però in questa in questa città nascono bambini e continua ed è una città che ha non so 300 400 mila abitanti non ricordo quanti comunque e questo parliamo di migranti eh da un paese all'altro su una situazione di conflitto ormai vecchia di decenni eh questo per dire che c'è una situazione eh regionale no in Africa di migrazione regionale e non solo la migrazione verso l'Europa così come ci sono eh c'è il caso del Venezuela che è degli ultimi due tre anni dove eh per situazioni politico economiche del paese eh ci sono milioni di venezuelani che hanno lasciato il paese e sono andati in paesi limitrofi dell'America Latina soprattutto eh e quindi hanno hanno provocato date di immigrazione di immigrazione in Peru in e in Colombia in Ecuador eccetera e sono persone che devono essere appunto a aver la possibilità eventualmente di trovare un lavoro o comunque essere mantenute eccetera nei contesti. Dall'altra parte pensate a Libano eh che è un paese di tre milioni di abitanti che ha un milione di rifugiati siriani all'interno no? Perché poi anche le politiche europee hanno fatto sì che le frontiere si fossero si fossero spostate ma ne parliamo subito dopo. I flussi i flussi migratori verso l'Europa nell'ultimo decennio sono illustrati in questa mappa conosciamo abbastanza bene questo questo tipo di fenomeno verso la rotta centrale del Mediterraneo la conosciamo tristemente anche per tutti i fatti i naufragi che avvengono e quindi quella che passa dalla Libia e dalla Tunisia che raccoglie i paesi centrali dell'Africa ma è importante anche la rotta occidentale quella che dal Senegal porta in Spagna alle Canarie eccetera ci sono anche lì purtroppo ci sono stati diversi incidenti con naufragi di decine e centinaia di persone che sono morte negli ultimi anni nella parte occidentale poi c'è la parte orientale la parte orientale dall'Egitto piuttosto che dalla dal Medio Oriente che in arrivo verso l'Europa non solo via mare ma anche via terra dalla Siria e anche dai paesi come l'Afghanistan eccetera e poi abbiamo avuto più recentemente due da due anni fa a questa parte i rifugiati diciamo dell'Ucraina quindi una migrazione forzata dovuta alla situazione di guerra del paese quindi questo è un po' la fotografia degli ultimi anni verso l'Europa diciamo soprattutto centrata sull'Africa ma in realtà no in realtà tutti i flussi che prove provengono da situazioni complesse. In Centro America c'è una situazione simile dove dal Centro America c'è una migrazione verso gli Stati Uniti per varie situazioni o verso il Messico anche e sovente queste intanto c'è il muro al confine con gli Stati Uniti dal Messico ma ci sono persone che entrano negli Stati Uniti illegalmente poi poi vengono riconosciute per un periodo oppure non vengono riconosciute vengono respinte attualmente ci sono stati tanti tante persone rimandate indietro dagli Stati Uniti appunto al Guatemala con problemi anche di rientro dopo perché dopo ritornare al proprio paese in modo forzato tanti problemi economici che uno aveva sono moltiplicati. Questo è un altro caso ma io volevo soffermarvi ancora un momento su quella che noi chiamiamo la classificazione dei migranti, il fatto che appunto abbiamo un 280 milioni di migranti nel mondo che sono il 3% dell'umanità, 80 milioni abbiamo detto sono i migranti quelli forzati da situazioni, conflitti o situazioni di altro tipo, 40 milioni sono in fuga nel proprio paese, abbiamo visto che adesso sono aumentati a 60-70 milioni, i rifugiati veri e propri con con la caratteristica del rifugiato. Ecco, a volte si usano queste classifiche, le usiamo queste classifiche anche nelle leggi, però è importante considerare che all'origine delle migrazioni ci sono motivazioni anche molto diverse e non è detto che sia così facile giudicare poi in un colloquio, giudicare le motivazioni per cui una persona o più persone e famiglie hanno deciso di lasciare il proprio paese, a parte quelle evidenti quando situazioni di violenza evidenti o di conflitto. Quindi il diritto alla migrazione in qualche modo va considerato nel suo insieme e non sempre appunto è evidente classificare qualcuno in quel modo. Tenete presente che oggi verso l'Europa quasi l'unico modo per arrivarci è essere classificato non c'è sostanzialmente una maniera legittima di venire in Europa per lavorare, bisogna prima venire come rifugiato e poi dopo forse si riesce a attivare una procedura per cui magari uno diventa anche un lavoratore, ma prima non ci sono molte strade aperte dal punto di vista della migrazione regolare. E il film, se qualcuno l'ha visto, di Garrone e io capitano rappresenta un po' questo, questa motivazione di quello che noi chiameremo migranti economici perché sono due ragazzi che dal Senegal decidono che vogliono tentare alla strada dell'Europa e lì è appunto economico. Qual è il motivo per cui queste persone decidono? Ci sono motivi sicuramente economici ma anche di altro tipo, quindi ecco una storia che è simbolica di questa cosa delle motivazioni, delle diverse motivazioni. La migrazione climatica, anche qua oggi si dice che in aumento la migrazione climatica sicuramente è una delle motivazioni perché se in un paese, un gruppo di paesi ci sono situazioni di desertificazione piuttosto che di mancanza di pioggia, di situazioni in cui i miei mezzi di sussistenza principali, l'agricoltura eccetera, non sono più possibili, sicuramente possiamo, l'ambiente è diventato impossibile per procurarmi i miei mezzi di sussistenza sicuramente posso decidere di migrare sia all'interno del mio paese sia verso altri paesi. Quindi si dice qui che ci sarà dovuto alle conseguenze dei cambiamenti climatici un aumento di questo tipo di migrazioni, forse si sta già verificando ma ecco questo è un altro tipo di migrazione, però cosa faremo nelle leggi, definiremo un migrante climatico, qualcuno che viene da quel determinato paese, gli daremo una motivazione, ecco anche per dare un limite, lo dico anche per dare un limite veramente a queste definizioni che vengono a volte sbandierate, un po' troppo secondo me per classificare le persone, per dire a questo lo rimando indietro perché non ha la motivazione giusta e così via. Sicuramente è un fenomeno che va governato con delle regole corrette, con delle possibilità di canale di migrazione regolare perché avremo tutti interesse ad avere questo tipo di leggi superando anche i pregiudizi eccetera e anche governando quelli che sono i problemi che la migrazione irregolare genera che potrebbero essere superati facendo delle politiche di migrazione regolare migliori, questo almeno è la mia opinione perché la criminalità eccetera viene anche dal fatto che ci sia questa irregolarità di fondo rispetto alle leggi delle migrazioni. E comunque superare pregiudizi, paure con delle politiche di integrazione è importante, il tema delle regole è un po' il tema che non vengono più cambiate da tanto tempo, sia il regolamento di Dublino sul paese di primo accesso dei rifugiati, che appunto deve essere il paese di primo accesso che si preoccupa di questo, non è un regolamento che funziona e nessuno lo vuole cambiare o vogliono cambiare solo alcuni paesi e non altri, però non ci si mette d'accordo e oggi molte leggi dell'immigrazione sono vecchie, anche la nostra legge principale che regola l'immigrazione in Italia è la Bostifini, al di là del colore politico è una legge di non so quanti anni fa, 20, 25, non so, è una legge che non è mai cambiata ed è una legge che non è assolutamente in grado di regolare in modo efficace questo tipo di fenomeno, che è un fenomeno che è inarrestabile, è un fenomeno che non, anzi col fatto che l'Africa avrà sempre più persone e noi abbiamo sempre meno persone nei nostri paesi, soprattutto in Europa, e noi che siamo anche molto vicini all'Africa, questo non sarà un fenomeno che può essere stoppato con un cartello, con un muro o anche con una difesa navale nel Mediterraneo, perché poi l'Europa, una battuta, ma l'Unione Europea negli ultimi anni ha fatto questa politica di provare a spostare i confini, no? Spostiamo il confine in Turchia, spostiamo il confine in Libia, addirittura lo mettiamo in Niger, facciamo il controllo delle migrazioni più lontano possibile da noi, no? In modo che poi possiamo parcheggiare, no? So, le persone in Marocco, piuttosto che nei, appunto, nei prigioni libiche, eccetera, le persone per poi non... ecco, tutto questo non funziona, però non funziona dal punto di vista dell'umanità e non funziona neanche dal punto di vista politico, per cui effettivamente, e ritorno al tema precedente, il tema precedente era che ci vorrebbe più cooperazione e più fiducia tra le nazioni per poter anche gestire un fenomeno così importante e che, appunto, continuerà e sarà un fenomeno cronico nei prossimi anni, non un'emergenza come è stata definita tante volte, no? Perché non è un'emergenza, è un fenomeno che continuerà, forse si amplificherà, ma comunque continuerà sempre. Dall'altra parte abbiamo anche necessità del soccorso, insomma, di queste cose qua dal punto di vista umano e dal punto di vista delle regole, lo salto questo perché siamo già tardi. Dall'altra parte una politica proattiva di integrazione e di migrazione è una politica che sarebbe più furba dal punto di vista anche dell'economia e dell'incidenza sul nostro sistema complessivo, sociale ed economico. Questo è un po' il tema visto un po' in generale, io faccio due esempi che riguardano anche la parte didattica, questo è un progetto di educazione alla cittadinanza globale che è rivolto alle scuole, è un esempio, è già in corso da diversi mesi, da un anno in realtà, è un progetto che si chiama Tutta un'altra storia ed è un progetto che vuole parlare col mondo scolastico, delle narrazioni divisive tra le comunità e tra rispetto al tema delle migrazioni, quindi è un progetto che cerca di avvicinare i popoli e avvicinare i ragazzi e le ragazze e le scuole al protagonismo rispetto a questo tema dello scambio tra i popoli e quindi anche al tema delle migrazioni, quindi il sottotitolo è nuove cornici narrative contro la discriminazione e l'odio. Ecco, ce ne sono anche altri, ma ci sono tanti altri progetti di questo tipo, ma ho fatto un esempio proprio per dire come si possa anche trattare, anche attraverso progetti specifici che possono essere accessibili e possono prevedere la collaborazione con le classi e con i docenti su questo tema. Così come un documento molto interessante, scusate, questo documento che viene pubblicato ogni anno e può essere accessibile è il dossier statistico in migrazione in Italia. è un volume che però ha delle considerazioni non solo statistiche, ma anche sociologiche, anche sulle politiche di integrazione, sulle situazioni, ed è tutto centrato sull'Italia, sulla situazione annuale, attuale dell'Italia sul tema delle migrazioni, di come viene vissuto, quali sono le regole, come ci sono i vari casi, non solo le statistiche appunto, ma è molto interessante perché c'è anche un'analisi sociologica di questo fenomeno, di come sta incidendo sulla nostra società, ecco, sulla nostra società italiana. Ecco, questo tema appunto chiude questo webinar. è importante che l'abbiamo visto complessivamente nell'insieme, insieme anche all'altro, perché il tema delle migrazioni è un epifenomeno, ma è un epifenomeno all'interno della geopolitica globale di tutta questa situazione che i diversi popoli del mondo vivono, perché è una situazione economica, situazione di conflitto, situazione politica, dove il fenomeno delle migrazioni è una conseguenza di questo. E quindi, in qualche modo, i due temi sono connessi. Nella scheda, e passo la parola, era prima, ma eccola qua. Grazie, grazie Federico per questo excursus veramente molto interessante e ricco di stimoli. Anche in questo caso, il tema delle migrazioni, a cui è dedicata un'infografica, sul lucratico di questa infografica, viene suggerito un percorso interdisciplinare. Naturalmente, questi percorsi non sono, cioè, quelle indicazioni che noi diamo non sono naturalmente esaustive della vastità del percorso, tant'è che a ogni indicazione, a ogni suggerimento, seguono delle domande, dei suggerimenti per gli studenti, proprio per andare a approfondire questo percorso, andare a fare questa ricerca, a leggere questi testi, eccetera. Quindi, è un percorso interdisciplinare suggerito, e che poi, come giusto che sia, sta agli studenti andare a integrare e ad approfondire. Anche in questo caso, le connessioni possibili sono molteplici, perché, per quanto concerne la geografia, parlare dei paesi da cui partono i flussi migratori, ma anche parlare delle tratte che seguono i migranti, pensiamo a quella tristemente nota del Mediterraneo, ma anche la rotta balcanica, sono argomenti, ovviamente, che si trattano nella geografia, e il collegamento con scienze, a questo punto, collega il tema delle migrazioni al cambiamento climatico, nel fatto che, appunto, come ricordava Federico, tanti migranti sono considerati migranti climatici, e quindi il fenomeno della desertificazione è legato al cambiamento climatico in atto. Per quanto concerne la storia, è molto bello fare un collegamento, invece, a quando i migranti eravamo noi, e quindi far riflettere i ragazzi sul fenomeno migratorio che ha coinvolto l'Italia dalla fine dell'Ottocento, scusate, alla seconda metà del Novecento, e che ha lasciato tracce anche in musica, perché ci sono tante canzoni scritte o dedicate ai migranti, come basti pensare a quella così famosa ai tempi delle nostre nonne, forse, mamma mia, dammi cento lire, che proprio racconta un po' l'esperienza dei migranti, così come anche in letteratura, pensiamo a Novecento di Baricco, che fotografa proprio il viaggio dei migranti in questi transatlantici enormi, transatlantici che diventano un collegamento possibile con la tecnologia. Per quanto riguarda i suggerimenti di lettura, naturalmente ci sono letture molto più recenti e anche forse più congeniali ai ragazzi, come per esempio nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geida. L'arte, soprattutto l'arte contemporanea, ci offre numerose riflessioni, numerosi spunti di riflessione sul tema migratorio. Qui, in questa infografica, abbiamo riportato un'opera d'arte che in realtà è un'installazione ripresa da un video di Adrian Paci che si intitola Centro di Permanenza Temporaneo e come risulta evidente queste persone aspettano di salire su un aereo che in realtà non esiste. Quindi, di nuovo, è un'opera d'arte che può offrire ai ragazzi numerosi spunti per la riflessione e per il confronto. E per quanto concerne l'educazione civica si può da un lato riflettere e approfondire gli obiettivi dell'agenda che cercano di contrastare questo fenomeno migratorio almeno nella sua parte più terribile. Quindi sconfiggere la fame, sconfiggere la povertà e ridurre le diseguaglianze sono sicuramente obiettivi che se raggiunti anche soltanto in parte consentirebbero a migliaia, a milioni di persone di non doversi spostare per raggiungere condizioni di vita migliori ma poterle raggiungere vivendo e lavorando sul proprio territorio. Così come può essere interessante anche una ricerca sulle diverse ONG che comunque in collaborazione con i vari governi nazionali aiutano i migranti in transito e quindi capire esattamente qual è il loro obiettivo e cosa fanno le persone che lavorano in queste ONG. Ringrazio ancora Federico Perotti per questo webinar molto interessante ho letto anche alcuni commenti in chat molto positivi in effetti sono argomenti molto interessanti che credo sia importante riuscire ad affrontare nelle classi in particolare forse per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado sono argomenti molto adatti agli studenti di terza perché appunto hanno moltissimi collegamenti con l'attualità e anche con la storia del Novecento. Quello che vedete qui è la copertina di Pianeta Plurale il libro che citavamo prima di geografia per la secondaria di primo grado di cui appunto Federico Perotti è coautore ed è come dice il titolo stesso è un testo di geografia molto attento all'attualità perché appunto riteniamo che la geografia debba dare proprio agli studenti degli strumenti per comprendere, decodificare il mondo che ci circonda e un'altra caratteristica di questo testo di geografia è la grandissima attenzione data alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica in particolare appunto nell'arco dei tre volumi di Pianeta Plurale si snoda un percorso che abbiamo chiamato dossier sostenibilità di cui adesso vi faccio vedere alcune pagine questo dossier sostenibilità si trova in tutte le unità dei tre volumi e collega quelli che sono gli argomenti naturalmente trattati all'interno del libro di geografia agli obiettivi per il raggiungimento di una sostenibilità ambientale ma anche economica e umana economica e sociale che sono appunto gli obiettivi che si pone all'agenda 2030 e quindi in chiusura volevo ancora chiedere a Federico Perotti cosa intendiamo appunto per sostenibilità da questi tre punti di vista ambientale, umana ed economica e perché è importante parlarne con i nostri studenti in effetti sono tre aspetti tre facce del tema della sostenibilità perché oggi parliamo tanto della sostenibilità ambientale ma in realtà la sostenibilità ambientale è legata all'umanità alla nostra presenza su questo pianeta quindi non è tanto la sostenibilità del pianeta in quanto tale ma la sostenibilità dell'umanità sul pianeta quindi la salute del pianeta è la nostra salute e la nostra salute a sua volta è una salute che non è solo una salute fisica ma è una salute economica e deve risolvere anche le problematiche di cui dicevamo prima le problematiche di tipo delle disuguaglianze le problematiche relative ai diritti e sono tutte sostenibilità di tipo sociale e poi collegate alla sostenibilità economica per cui le tre facce della sostenibilità principali che sono un po' le facce principali dell'agenda 2030 sono legate fra loro la sostenibilità è semplicemente quel concetto che ci porta a dire a dire che quello che facciamo oggi come umanità che viviamo oggi come umanità sul pianeta varrà anche per le generazioni future cioè le generazioni future avranno la stessa possibilità di vivere e cosa che oggi non si sta verificando perché stiamo esaurendo le risorse stiamo appunto facendo realizzando dei conflitti eccetera ecco in queste schede analizziamo anche analizziamo i vari aspetti della sostenibilità sociale eccetera dell'agenda 2030 riferiti agli obiettivi anche facendo degli esempi attualizzati sui test sulla geografia quindi cercando di riportare degli esempi relativi alle diverse aree geografiche che vengono trattate nel testo insieme al trattamento più generale dell'aspetto sociale o dell'obiettivo specifico dell'agenda 2030 grazie Federico vi faccio ancora vedere velocemente questa è invece la copertina del fascicolo di sfide cioè il fascicolo con le infografiche di cui oggi abbiamo parlato vi faccio vedere ecco questa è una delle infografiche nella sua completezza ribadisco che sono a mio avviso degli strumenti molto utili perché affrontano in maniera semplice comprensibile ma non banale né semplicistica argomenti di profonda attualità e di profonda urgenza e che quindi è uno strumento prezioso per poterli affrontare con la classe nell'arco dei tre anni a questo punto ringrazio appunto ancora Federico Perotti per il bellissimo webinar e lascio la parola a Letizia per le conclusioni grazie a voi grazie Raffaella grazie Federico e beh intanto se c'è ancora qualche se c'è qualche domanda se c'è qualche curiosità qualche commento noi siamo a vostra disposizione quindi scriveteci in chat intanto vi ho lasciato come avete visto nell'ultimo link che ho condiviso la scheda con la presentazione interattiva del volume e i recapiti della nostra rete commerciale potete se cliccate sopra il link troverete una cartina di tutta Italia in cui potete trovare la vostra agenzia di riferimento per richiedere una copia saggio se non l'avete ancora ricevuta quindi potete fare riferimento all'agenzia del vostro territorio intanto ne approfitto per invitarvi al prossimo appuntamento perché abbiamo ancora un incontro dedicato proprio a questi argomenti e nello specifico ci riferiremo un po' di più alla parte di sviluppo sociale ed economico alla popolazione al lavoro ai diritti adesso correlati e ne parleremo il 15 di il 15 di aprile le iscrizioni sono già aperte sul nostro sito sul nostro sito quindi volendo potete già iscrivervi e niente se vedo che non ci sono altre domande volevo ecco profittare di questi ultimi secondi per inviarvi qui in chat il link all'appuntamento di cui vi parlavo così magari vi è più comodo se volete iscrivervi trovarlo qui direttamente eccolo in ultimo condivido i nostri contatti immagino che anche questi già li conosciate però se anche a seguito del webinar avete poi qualche domanda qualche richiesta a merito a quello che abbiamo trattato o in particolare rispetto al volume potete scriverci o sui social o all'indirizzo mail formazione chiocciola l'artisteditori punti t che è l'indirizzo che potete tenere come riferimento un po' per tutte le informazioni legate alle presentazioni che stiamo facendo e vi ricordo magari lo ricordo a chi si è collegato poi nel corso del webinar che l'incontro di oggi è stato registrato quindi domani lo caricheremo insieme alle slide sul sito di Lattes sul sito di Lattes dedicato alla formazione ecco dove potrete trovare sia la registrazione di oggi che quelle dei webinar passati se non ci sono altre domande io ringrazio Federico per averci illustrato un tema così delicato come quello di oggi Raffaella allo stesso modo e tutti e tutte voi per averci dedicato il vostro tempo e il vostro ascolto vi aspettiamo ovviamente il 15 di aprile rimetto la data in chat trovate il link per grazie Federico e grazie a tutti e tutte e appunto come ha detto Letizia vi aspettiamo per il prossimo appuntamento grazie arrivederci a tutti arrivederci buona serata arrivederci